Sono arrivato a ritardo agli studi, sono arrivato tardi questa mattina qui all'università, mi scusi rettore, Donatella! Che devo dire di Donatella? Senti una cosa, io ti cedo subito il microfono perché altrimenti poi c'è Califano che mi dice che io allungo perché dovrei dire mille cose su te. Ti lascio il microfono e parla di te, parla soprattutto di questo pubblico e se hai la possibilità, non so se ce l'hai, pratica di dire un qualcosa a loro. Volevo dire a Ferrarotti che l'uno è il primo numero, il numero da cui si comincia, non è un numero in cui si finisce, è uno. E quindi praticamente, Ferrarotti è lì, c'è il fotografo davanti, senti una cosa, non puoi cantare perché ti ho bisogno di dieci ballerini per cantare. No, non canto perché devo venire a Firenze e poi non c'è niente, praticamente no, ciao! No, devo dire che Donatella penso che non abbia niente di pronto per il semplice fatto che ha fatto delle acrobazie incredibili per essere qui. E siccome non è che darete a lei la soddisfazione di un applauso, della gioia, della simpatia come avete già dimostrato, perché canta? No, è qui, con voi, per dividere la stessa gioia. Voi lì per lei, lei qui per voi. Ciao Figoni! Mi dai sto premio che me ne vado! Grazie. Grazie. Donatella, tra qualche giorno qua. Grazie.